il primo numero del nuovo anno 2018 come sempre ormai tradizione di east west sarà dedicato al personaggio dell'anno la domanda che abbiamo fatto ai nostri elettori è chi è il personaggio che ha più influenzato le vostre vite nel 2017 noi eravamo come dire supporter fan dell'idea che fosse emmanuel macron da europei convinti quali siamo invece il 40 per cento ha votato per donald trump con rammarico gli abbiamo dedicato a un'altra copertina non perché abbiamo espresso giudizi di valore ma perché gli avevamo appena dedicata una due numeri fa ma rispettiamo il volere dei nostri elettori anche perché è stato significativo il 40 per cento di loro ha votato per donald trump purtroppo solo il 4 per emmanuel macron ma probabilmente perché la domanda la risposta alla nostra domanda è forse ovvia certamente l'impatto di donald trump sulle nostre vite sugli scenari internazionali è sicuramente più significativo per il momento di quanto non sia riuscito ancora a fare emmanuel macron speriamo tutti che l'europa tragga dalla presenza di trump al vertice del paese più potente al mondo anche la lezione di dover rendersi più indipendente quindi con una politica autonoma tutti in edicola quindi troverete approfondimenti su un anno di operato del presidente americano e potremmo valutare insieme cosa ci aspetta in questo 2018